ero lì tranquillo che mi vedevo i miei giornali quando ti becco questa robetta qua e lei le fake news sono bombe che attentano alla democrazia e Maria Ressa si chiama questa vediamo un po persona dell'ano dal time è molto carina con anal ha capito praticamente c'era bisogno di fare un cambio di sistema in filippina c'è un cambio per non cambiare un cazzo in realtà e lei è la dissidente come in russia c'è navalny che adesso in albania c'era saliberiscia che poi è diventato presidente i dissidenti vengono tirati fuori così cominciano a abituare l'epa ecole che guarda che fra poco sta per cambiare tutto il meglio ovviamente e sta per arrivare la democrazia arriva la democrazia anche in filippine i retti come si vogliono bene se non ci fossero loro che ci danno la democrazia lavorano per noi loro un eroe sì ma non mi puoi toccare pisella adesso però aspetta un attimo faremo un'orgia dopo ma io non resisto sì aspetta un attimo aspetta ci sarà anche l'amico mio stavolta ti piace lui e no c'è il pisello piccolo lui e posso usare il mio telefono per fare un video durante l'orgia lo faccio sempre guarda c'ho pieno di video qua di altre orge sì ma non è il momento adesso no mask no entry beh la medaglietta del nobel prize consiste in tre tipi nudi il pisello di fuori che si abbracciano va bene nel 2022 lei è riuscita col suo attivismo cambiare il dittatore non c'è più adesso c'è quest'altro che è suo figlio sposato con questo coso qua ma vediamo piuttosto il logo qua vediamo se riusciamo a trovarlo ingrandito grazie vediamo un sole un ottagono c'è una stella otto punte ha un bel triangolo e vi sono tutti felici e contenti anche nelle filippine con la democrazia e la democra nonna